nelle campagne attorno a gubbio nel 1206 si sente spesso gridare al lupo al lupo vi si aggira infatti una belva feroce che sbrana le bestie e aggredisce chiunque le capiti a tiro per la paura gli abitanti del contado non escono più di casa finché non interviene un giovane soprannominato il poverello di assisi il suo nome di battesimo è giovanni anche se suo padre gli ha poi aggiunto quello di francesco in realtà è nato in una famiglia di ricchi commercianti ha fatto il mercante ha combattuto con i chibellini di assisi contro i guelfi di perugia è stato catturato in battaglia ha passato un anno in prigionia ammalandosi gravemente poi ha tentato di partire per la quarta crociata ma si è ammalato di nuovo e proprio allora la sua vita è cambiata forse per il trauma della guerra o per un'illuminazione divina ha iniziato a donare denaro e beni di famiglia ai poveri suo padre allora lo ha denunciato ma al processo francesco si è spogliato di tutti gli abiti e ha consacrato la sua vita a dio e alla chiesa poco dopo si è trasferito a gubbio ospite di amici proprio lì avviene il suo leggendario incontro con il lupo francesco parla fraternamente all'animale e gli raccomanda di non fare più danni in giro il lupo ammansito acconsente a tutti e tutti gridano al miracolo per il poverello di assisi sarà il primo di una lunga serie francesco dedica il resto della vita a predicare pace e uguaglianza tra gli uomini e fonda l'ordine dei frati minori che ha come regola la povertà muore nel 1226 fra i trilli delle allodole lui che aveva invitato gli uccelli a lodare il signore con loro canto e viene canonizzato appena due anni dopo è probabilmente il santo più amato nel nostro paese oltre che il patrono d'italia eppure solo nel 2013 il neo eletto papa jorge mario bergoglio sceglie di assumere il suo nome per il pontificato nessuno prima di lui ci aveva pensato dal 1961 sulla scia degli ideali francescani ogni due o tre anni si svolge in umbria tra perugia e assisi la marcia per la pace e la fratellanza dei popoli nata su iniziativa del filosofo aldo capitini a questa grande manifestazione non violenta partecipano ogni volta migliaia di persone provenienti da tutto il mondo